Per me la morte di John Lennon è stata una vera tragedia. C'è veramente un lutto troppo grave. Non so, era come un pezzettino della mia vita che se n'andava. Veda, al limite, mediamente, se moriva mia nonna, la cosa non mi intaccava. Però con John c'era sto cordone ombelicale che ci univa. Ho anche mandato un telegramma di condoglianza a Yoko Ono. Questo però forse non le interessa. Cantante preferito? Lucio Dalla. È il personaggio che considera più significativo nella storia della musica. In senso assoluto? Lucio Dalla. Sì, va bene. Ma un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare? No, no, mica lo ignoro. Però Dalla è Dalla. E allora, Mozart, lei dove me lo mette? Dove me lo mette? Dove io lo metto? Non lo so. Però mi sembra che Beethoven è sempre Beethoven. Bravo. E cosa preferisce di Beethoven? Di Beethoven quasi tutto. Soprattutto la... Quella... Mannaggia, ho pedito risannegato. E... Quella che fa... Sto a sbagliare con altro. Però Beethoven mi sembra il più... Il più consistente. Per quanto pure Mozart, non è che... No, meglio Beethoven tutto sommato.